Le memorie del passato si rinnovano anche nelle parole, come ci ricorda il presidente dell'Accademia della Crusca. La lingua è un fondamentale supporto della memoria. Basta pensare che la storia si scrive con le parole, si tramanda attraverso le parole. Però qualche volta è la lingua stessa che conserva la memoria del passato. In espressioni che in realtà non rispondono più alla realtà contemporanea. Per esempio noi diciamo cercare un ago nel pagliaio, mettere il carro davanti ai buoi. Ma chi usa oggi i buoi quando i contadini adoperano i trattori? Oppure si pensi al lessico di uno strumento moderno come l'automobile. Nell'automobile si dice la carrozzeria, che ricorda il tempo delle carrozze, o la selleria, che ricorda il tempo in cui il cellaio fabbricava gli accessori per il cavallo. E carrozza si usa anche per il treno, la carrozza ferroviaria. Dunque la lingua contiene dei fossili che ci ricordano il passato, come quando diciamo non ho una lira, ma le lire non ci sono più perché usiamo l'euro. E al tempo della lira si diceva non ho più un centesimo, ma i centesimi non c'erano.